Procede nei punti vaccinali di popolazione territoriali e ospedalieri della provincia di Foggia la campagna vaccinale anti-Covid secondo la nuova organizzazione stabilita per i mesi estivi. Per quanto concerne la città di Foggia, si ribadisce che tutte le persone che hanno ricevuto la prima dose presso i punti vaccinali dell'Istituto Masi Giannone, del Don Uva di Foggia, del San Francesco Hospital e di Villa Igea, riceveranno la seconda dose presso il punto vaccinale di popolazione dell'ente Fiera, nello stesso giorno e la stessa ora indicati nel promemoria ricevuto. Resta invariata invece la programmazione del punto vaccinale ospedaliero del davanzo di Foggia. Compatibilmente con le dosi disponibili e con le priorità stabilite in ambito regionale, saranno inoltre vaccinati, secondo le informazioni della ASL Foggia, i turisti che si registreranno presso lo specifico form online pubblicato sul sito La Puglia Ti Vaccina, destinato alla raccolta di manifestazioni di interesse delle persone che soggiornano in Puglia per il periodo delle vacanze estive. Ad oggi in provincia di Foggia sono state somministrate quasi 610.000 dosi di vaccino.